finalmente ci siamo a breve partiranno in città le riprese del film di peter greenaway e già si parla di una data vicina alla fine di marzo dopo alcune incertezze definitivamente archiviate stamani 13 marzo a palazzo santini si è tenuta la prima riunione operativa coordinata dall'assessore al turismo remo santini si è parlato della logistica soprattutto e quindi della necessità di chiudere delle piazze sia per quanto riguarda i parcheggi sia per quanto riguarda le scene i set appunto è un'operazione molto impattante cercheremo di limitare al massimo disagi e questa riunione è stata per fare un primo punto della situazione l'ok del comune c'è e quindi si tratta soltanto di verificare con la produzione gli ultimi aggiustamenti tecnici c'è un piano di lavorazione molto preciso molto dettagliato e si inizierà a girare diciamo entro la fine di marzo per poi arrivare fino ai primi giorni di maggio molte location cittadine che faranno da sfondo alla produzione livudiana torre guinigi piazza anfiteatro le mure urbane e sotterrani la cattedrale di san martino e palazzo pfanner siamo molto orgogliosi di poter collaborare con questa produzione sapete che c'è una produzione internazionale che si chiama facing east e una produzione italiana che si chiama the family il cast è importantissimo si parla di premi oscar che potranno essere ufficializzati soltanto a breve e non oggi ma insomma la macchina si è messa in moto e i lucchesi siamo sicuri saranno orgogliosi di questo film nonostante non ci sia ancora la conferma ufficiale nel cast del film spiccano ancora protagonisti dustin hoffman ed ellen hunt a cui si aggiungeranno forse altri nomi di attori italiani nel frattempo presegue il lavoro degli uffici comunali per accogliere in centro il team della produzione composto da 120 persone a breve saranno ricontattate anche le comparse